Controlli al passo della cittadinanza per i carabinieri della Compagnia di Andrea che hanno realizzato dei servizi di pattuglia a piedi con i militari di quartiere. L'intento di prevenire e reprimere potenziali reati predatori nelle aree a maggiore affluenza cittadina, tanto che oggi in particolare il servizio è riguardato l'area mercatale nei pressi della villa comunale. Non mancherà vicinanza, ascolto e assistenza alla popolazione. Nei prossimi giorni gli stessi servizi di prossimità saranno svolti negli altri comuni e nella frazione andrese di Montegrosso. Nel passato weekend intanto si sono moltiplicati i controlli nelle città della Movida, in particolare Trani e Bisceglie oltre a Barletta, San Ferdinando e Margherita di Savoia, tanto che sono stati impiegati oltre 40 militari con 21 mezzi per poter garantire una totale copertura del territorio. In particolare sono state identificate 324 persone, controllati 156 autoveicoli. Sono state elevate 10 sanzioni al codice della strada di cui 4 per mancato rinnovo della revisione, una per guida senza patente, due per patente scaduta, una per la mancata copertura assicurativa e altre due rispettivamente per mancanza di documenti e per guida senza cintura di sicurezza. Durante i controlli sono state eseguite anche tre perquisizioni personali e veicolari. Sette invece sono le persone segnalate dall'autorità giudiziaria perché trovate in possesso di 10 grammi di droghe leggere per uso personale. Grande attenzione è stata rivolta infine al controllo dei locali presenti nella zona 167 di Barletta, alcuni dei quali molto frequentati soprattutto dai giovanissimi. I servizi dedicati svolti dai militari dell'arma continueranno regolarmente nelle prossime settimane anche nei restanti comuni della BAT per garantire una sempre maggiore vicinanza e sicurezza per i cittadini.